Vado? Cos'è? Vado? Speravate di avermi perso, invece no, sono tornato. Sono tornato come dice Gianni Morandi, bisogna vivere. Gianni Morandi, altro che vivere. Lo sai che cosa dice al calciomercato? Scegli me. E siamo arrivati a questo, a dover fare il calciomercato. Gianni, ti prego, guarda quest'uomo che pensa a te. Prendi due giocatori, un portiere e un attaccante. Non possiamo tutte le domeniche perdere. Non possiamo. Perciò, quando gioca il nostro portiere e la nostra difesa, lo sai che cosa dice? Uno su mille ce la fa. Non è possibile, Gianni Morandi, non è possibile poi accompagnarli verso lo spogliattolio e loro cantano, non sono degno di te. Ecco, perciò, pensa neanche Gesù Cristo al buon Dio arrivava a tanto. Perciò, signore, io ti prego Gianni Morandi, se vuoi organizziamo, vieni qua, suoni a fianco a me, organizziamo una colletta per comprare la sua caspita di portiere. Ovviamente non lo devi andare a cercare nell'ufficio di collocamento bilingua, sa anche l'inglese, il francese e il tedesco. Uno che è pari le porte, perché se no ho la mini, gli insegno, prego di si inquadrare, la mini, guardate, è già distesa, gli insegno a prendere i palloni. Non c'è problema, il cane che avevo prima ha azzeccato tutte le partite, scuso uno che ce la siamo venduta, che era quella del Napoli, e qui non voglio aprire la parentesi, però voglio dire, lei avrebbe azzeccato le vittorie del Bologna. Non è possibile perdere tutte le partite, non è possibile. Gianni, non ti fare vedere adesso, vai, hai preso dei soldini a Verona, e allora spendili. Vuoi, Celentano, ha dei soldini? Spendili. Il comune di Bologna non ha soldi, ma li spende lo stesso, pur del Bologna, spendili. Perciò, forza Bologna alle Bologna. E vorrei ricordare, in questi così tanti anni fa, ci fu un uomo che fece Bologna, Bologna, Bologna campione. Vorrei ricordarlo perché lo porto sempre nel cuore che è Dino Sarti. Vorrei ricordarti anche quello Gianni, Gianni, sarà ora anche di cantare quella canzone. Bologna, Bologna, Bologna campione. Forza ragazzi, ce la possiamo fare. Vai, e la prossima volta il viaggio non è qui a San Pietro, è a Lourdes. Mi raccomando, forza Bologna!